Per arginare le prepotenze giudiziarie e far sì che la giustizia non produca paura, nasce l'Associazione 358, presentata alla stampa e ai cittadini nel corso della conferenza che si è svolta a Pescara presso l'Officina delle Idee del senatore PD Luciano D'Alfonso. Sostenuta e supportata anche dall'Aiga, l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, rappresentata in conferenza stampa dall'Avvocato Andrea Cocchini, coordinatore dell'Aiga per il Centro Italia, l'associazione, che ha già raccolto numerose adesioni, opererà anche attraverso un'apposita testata giornalistica per monitorare l'incivile tipologia di errori giudiziari dovuti al mancato rispetto dell'articolo 358 del codice di procedura penale, per il quale il PM svolge accertamenti su fatti e circostanze a favore dell'indagato, come ha spiegato il senatore PD Luciano D'Alfonso. Quest'articolo noi lo vogliamo rendere istituto di garanzia e di diritto goduto. Il pubblico ministero, quando svolge il suo lavoro previsto dalla carta, deve anche ricercare le prove a favore dell'indagato. Non mi risulta che questo sia accaduto sempre e vorrei dire che la riprova è quando poi l'attività di accertamento si conclude con assolto perché il fatto non sussiste. Se ci fosse stata la cura e la realizzazione dell'articolo 358 avremmo evitato quella che io chiamo le farchie dell'emotività giudiziaria, dove c'è un impossessamento della verosimiglianza nei confronti della verità. Come concretizzerete l'attività di questa associazione? Avete in mente anche due riforme? Noi abbiamo in mente due riforme, una riguardante lo spostamento del protagonismo dal PM al GIP per quanto riguarda le indagini difensive ad opera degli avvocati procedenti. Due, determinare anche una rotazione negli anni di impiego delle persone fisiche, delle alicote di polizia giudiziaria come lavoro giudiziario a supporto dei pubblici ministeri. Noi vogliamo essere un elemento di aiuto per ripristinare una cultura delle garanzie, una cultura della complessità, una cultura del giusto processo. Ho molta fiducia nel nuovo corso della Procura di Pescara, ho molta fiducia della Procura Generale della Corte Appello, ho fiducia di alcune grandi bravure oggettive che ci sono, che si sono anche distinte, ho fiducia della magistratura giudicante, però vogliamo fare anche un contributo di centimetri noi come associazione che mettiamo insieme liberi professionisti, studiosi del diritto, magistrati del circuito nazionale, accademici, operatori della legislazione. Io personalmente, attivandomi, ho contribuito anche a creare una condizione di favore per il miglioramento di un passaggio fondamentale riguardante la legislazione giudiziaria. Quando si fanno gli interrogatori ad opera della Polizia Giudiziaria, adesso, con la riforma del Codice, bisogna utilizzare la videoregistrazione. Così non ci sarà più nessun satanasso che spaventi. Nel lavoro di accertamento della verità, sia nella fase procedimentale che processuale, non va dispersa la dignità della persona.